Finalmente riusciamo a dare un volto al nuovo direttore sportivo che tanto ci avevate chiesto. È una persona che sta lavorando con noi ormai da mesi, perché da quando abbiamo iniziato questo nuovo ciclo è con noi a stretto contatto, ha avuto dei piccoli problemi di passaggio che vi spiegherà lui. È una persona che in Lega ha rivestito anche ruoli importanti e che ci darà una grossa mano anche con le istituzioni. Lascio la parola a lui perché oggi è il suo giorno e vi darà tutte le delucidazioni e vi spiegherà un po' tutto lui. Grazie. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Vrenna, il Direttore Generale, Raffaele Vrenna per questa opportunità, questa occasione che sicuramente è molto importante. Sono arrivato con qualche giorno di ritardo in virtù del fatto che ho dovuto terminare per espletare la pratica relativa al ripescaggio per la società dove ho lavorato per nove anni, cioè la Fermana, quattro anni in serie D e cinque anni in serie C. Quindi abbiamo dovuto un po' attendere per l'ufficialità della notizia che è stata riportata ieri. Ringrazio anche per questa cosa, per la pazienza, la proprietà che ha capito questa situazione e mi ha permesso di poter portare a termine quello che comunque dopo tutto questo tempo passato in una compagine era un atto che era dovuto. Per quanto riguarda questa esperienza sicuramente è un salto di qualità importante arrivare a una piazza blasonata come Crotone, una terra bella, una terra importante. Sicuramente ci sarà molto da lavorare perché affronteremo un campionato dove il Crotone manca da tantissime stagioni. Sarà un campionato tosto, difficile, dove le nostre avversarie ci aspetteranno tutte quante. Sarà dura però attraverso la cultura del lavoro sono sicuro che riusciremo ad ottenere dei risultati importanti. Allora, l'opportunità è nata perché c'è stato un contatto nelle scorse settimane, come diceva il direttore durante il suo intervento di presentazione. È stato un contatto che innanzitutto mi ha fatto molto piacere e mi ha reso veramente felice perché comunque Crotone, lo sapete meglio di me, è una piazza che ha disputato campionati importanti anche nella massima serie negli ultimi anni, quindi sarebbe anche stato difficile dire di no. È un'avventura che mi stimola molto, è un'avventura che ho raccolto con molto entusiasmo, anche con tanta voglia, con tanta fame, con tanta rivalza, perché anche io vengo da un campionato, da una stagione sfortunata, è terminata male, quindi ho molta voglia di rivincita, penso la stessa che c'è qui. E quindi diciamo che le nostre strade si sono trovate facilmente anche per questa ragione. Rispondendo alla seconda domanda, per quanto riguarda il settore giovanile, il direttore mi ha detto che anche lì bisogna metterci mano per ridare lustro, ridare importanza, cercando piano piano, perché poi con il settore giovanile ci vuole tempo, non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera o da una stagione all'altra. Attraverso la programmazione, attraverso il lavoro, cercare di fare in modo che il settore giovanile possa iniziare a rifornire piano piano anche la prima squarra, attraverso talenti che possano portare la maglia importante, anche gloriosa, del Crotone, perché comunque quando si riesce a tirare fuori dei frutti dal proprio settore giovanile, credo che sia una delle più belle soddisfazioni che possano avere gli addetti ai lavori che si occupano di questo settore. Beh, l'idea di Crotone, sicuramente il Crotone non è in serie C per fare la comparsa, questo è poco, ma è sicuro, però come dicevo quando rispondevo alla domanda del suo collega, il campionato di serie C è un campionato molto complesso, vince una squadra sola, c'è una lotteria dei play-off che è molto complessa, perché partecipano 27 squadre, come sapete, è molto lunga, quindi è un campionato complicato, immagino che le altre squadre, escluse le altre 3-4 compagini che lotteranno per il vertice, ci aspetteranno come fossimo una squadra tra le più importanti della Serie A, quindi è chiaro che dobbiamo aspettarci questo tipo di partite, sia quando giocheremo in casa, sia quando giocheremo fuori casa. Spesso affronteremo anche delle partite, questo ve lo dico per esperienza personale, non belle dal punto di vista dello spettacolo, perché le squadre si chiuderanno, questo succederà spesso e quindi dobbiamo anche abituarci a questo tipo di partite. Noi dobbiamo cercare di essere più bravi di queste compagini contro le quali giocheremo, perché per loro i punti varranno doppio quando giocheranno contro il Crotone e noi dobbiamo fare in modo, attraverso la bravura del nostro allenatore, del nostro staff tecnico, dei nostri giocatori, di essere più forti di queste avversità che incontreremo, perché comunque sia chiaro che il Crotone disputerà questo campionato per fare un campionato di vertice, con umiltà, secondo il mio punto di vista, perché ci sono squadre che già hanno militato in Serie C e quindi sono forse mentalmente più preparate, ma sicuramente non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Ma da alcuni punti di vista sicuramente per me è diverso rispetto al tipo di esperienza che ho affrontato in precedenza. Come dicevo prima, sicuramente sarà molto stimolante ed è molto pertinente quello che ha detto lei, di accompagnare i calciatori singolarmente, perché poi ognuno ha le sue problematiche, le sue peculiarità e quindi è chiaro che i ragazzi, che spesso sono anche ragazzi giovani, vanno via da casa magari per la prima volta o per la seconda volta. È chiaro che bisogna stargli vicino in tutti i passaggi quotidiani, sia nell'allenamento ma anche fuori dall'allenamento, nella vita privata, perché i problemi, le tematiche possono essere più di una e quindi la vicinanza da parte dello staff dirigenziale, così come dello staff tecnico, ma anche dello staff dirigenziale, che secondo me deve stare vicino allo staff tecnico, non solamente ai giocatori. È molto importante, determinante, sicuramente sono tutti aspetti per come la vedo, per come sono abituato a lavorare, che poi alla fine dell'anno anche questi portano punti in classifica. È stato nominato in settimana anche il responsabile settore giovanile, Andrea Carrozza, che si occuperà 24 su 24, soprattutto di stare sul campo e di stare vicino agli allenatori e ai ragazzi. Io ho chiesto, insieme a mio padre, al direttore, abbiamo chiesto un tipo di risultato, che non è quello di dover vincere il campionato del settore giovanile, ma quello di far riprendere la gioia nel territorio, quindi nel senso di avvicinare le persone di nuovo a far voler bene al crotone calcio, nel senso di tutti i paesi limitrofi e non solo della città, di cercare di valorizzare i ragazzi, non solo calabresi, ma soprattutto crotonesi, da quest'anno. E quindi il risultato che ho chiesto è maggior comprensione verso i ragazzi e ai genitori ho chiesto meno pressione verso i ragazzi, perché c'è anche quello di contro, non solo gli allenatori, ma tante volte anche i genitori. Quindi stiamo cercando di far riprendere un po' l'entusiasmo anche ai ragazzi, dai più piccoli. Ci stiamo occupando anche delle attività di base in particolar modo. Detto questo, purtroppo sto vedendo a mio malincuore che tanti ragazzi cercano, perché poi quando retrocedi, allora come se abbandonassi la nave, e quindi tanti ragazzi, a mio malincuore, mi dispiace sentire, vorrei andare di laurea, però il crotone non obbliga nessuno a rimanere. Speriamo che poi le nostre siano migliori e che poi possano ritornare un giorno sui propri passi. Però detto questo, il settore regione si sta muovendo in un modo, secondo me abbiamo lavorato per settimane in modo che adesso possa proseguire il cammino da solo. Abbiamo eliminato dei gruppi per necessità di costi, ma comunque i ragazzi non andranno persi o svincolati, ma andranno aggregati alle varie fasce d'età. Quindi se un gruppo solo dei 2007, verrà implementato anche con i 2006 ad esempio. Quindi non verranno sicuramente dispersi il lavoro fatto in precedenza, ma verrà sicuramente fatto in maniera un po' più economica e dettagliata. Ma il mercato è lungo, come ben sapete, finisce il 31 agosto, anzi quest'anno se non sbaglio il primo settembre. Quindi c'è ancora molto tempo e per queste valutazioni bisognerà vedere quello che succede nelle varie dinamiche nelle prossime settimane. Ma quello che comunque noi chiediamo ai giocatori che vengono a Crotone o che restano a Crotone è sicuramente la determinazione, la voglia di rivincita per quello che è successo nella passata stagione. Quindi chi viene qua deve sapere che viene in una società, in una città che hanno grande voglia di rivalza e voglia di invertire la rotta che c'è stata nelle ultime due stagioni a livello dei risultati. La campagna abbonamenti verrà presentata nell'inizio di questa settimana entrante. I prezzi sono già stati definiti, posso anticiparvi qualcosa, sicuramente saranno dei prezzi stracciati. Addirittura con 60 euro si riuscirà a fare solo un abbonamento di curva. Quindi questa è l'anticipazione. C'erano dei pacchetti che permetteranno delle grandi novità. Penso che mai una società di calcio ha avuto dei prezzi così bassi, ma lo facciamo soprattutto per aiutare il territorio e i crotonesi di nuovo a rinnamorarsi del Crotone. Anche perché, come ho detto l'altra volta, affronteremo delle partite che forse per la categoria ci sta stretta, però le partite sono di grande interesse soprattutto per il territorio, perché avremo il derby col Catanzaro, partite storiche come col Foggia, con la Juve Stabio. Io spero che anche il senso di appartenenza alla maglia, al territorio, richiami i tifosi in tanti allo stadio già dalla prima partita, perché serve già dalla prima partita spingere per portare i risultati, perché noi dobbiamo fare di casa nostra il fortino che ci permetta di fare più punti possibili in casa e di andare fuori casa a imporre il nostro gioco. Grazie. Grazie. Grazie.